Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme una torta semplice allo yogurt. Iniziamo a preparare la torta e usiamo tre uova interi. Mettiamo 130 grammi di zucchero bianco. Versiamo il zucchero. Lavoriamo con le fruste elettriche. Mettiamo 100 grammi di burro morbido. Aggiungiamo 130 grammi di yogurt alla vaniglia. E adesso aggiungiamo la farina. 200 grammi di farina 00. Mettiamo una bustina di levito per i dolci. E adesso lavoriamo tutto insieme. Usiamo un stampo di 24 centimetri. E adesso lo imburiamo con il burro fuso. Versiamo il composto nello stampo. Mettiamo 100 grammi di zucchero. Mettiamo a cuocere la torta nel forno a 170 gradi. Forno ventilato. Mettiamo a cuocere la torta. Torta è pronta, l'ho lasciata a cuocere nel forno per un'ora. Mettiamo il zucchero a bello. Taliamo una fetta di torta. Assaggiamo la torta. Che buona! Buona! Sofice e morbida! Molto, molto buona! Buonissima! 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 Buonissima!